Un incontro urgente con il sindaco Peppino Ranalli per trovare una soluzione al problema che sta attanagliando i commercianti di Via Sallustio a Sulmona. A richiederlo sono il vicepresidente provinciale di Confesercenti, Pietro Leonardozzi, ed il referente delle attività di Via Sallustio, Alessandro Continenza. Nelle scorse settimane, soltanto lungo un lato della strada, sono stati istituiti parcheggi gratuiti per l'Associazione di Categoria dei Commercianti. La messa in opera della segnaletica orizzontale conferma uno stato generale di disagio. La nuova delimitazione e definizione delle aree destinate a parcheggio non rispondono alla reale esigenza della clientela e dei residenti. Viene rimarcato che la nuova segnaletica non garantisce sicurezza alle persone e gli attuali parcheggi penalizzano gli operatori della zona, andando ad incidere negativamente sulle vendite e creando una disparità con i commercianti che si trovano sull'altro lato. Gli stessi esercenti già da tempo avevano presentato un documento al Comune contenente una serie di proposte al fine di regolamentare la viabilità e la sosta lungo il viale. Come l'eliminazione del divieto su un lato e l'istituzione del disco orario dove attualmente il parcheggio è libero. Come risposta purtroppo si verifica solo una raffica di multe da parte della Polizia Municipale, afferma un commerciante, che pone il serio rischio di spopolamento della zona per via di cittadini che, per timore delle multe, possano decidere di non recarsi più nelle attività di una zona ormai pericolosa, teatro anche di un investimento mortale avvenuto nei mesi scorsi. La Confesercenti è pronta a formulare al Sindaco Ranelli alcune proposte tendenti alla modifica e alla razionalizzazione dei parcheggi sulla strada in questione.